Musica Buonasera dal Tg Max, dopo l'annuncio dei nuovi tagli al sociale nel bilancio 2015 varato dalla giunta Alessandrini di Pescara, i sindacati si mobilitano e chiedono al sindaco di rivedere la politica di bilancio. Nuovi tagli al sociale nel bilancio 2015 presentato dalla giunta del comune di Pescara è prossimo all'esame del consiglio che dovrà decidere di approvarlo o meno entro il 27 maggio. Polemici i sindacati stanchi dei tagli che colpiscono le fasce più deboli e pronti alla mobilitazione. I tagli, si è giustificato il sindaco Alessandrini, sono stati necessari insieme ad altri 8 milioni in vari servizi, compreso il gabinetto del sindaco, perché il comune è in procedura di dissesto controllato. Ma questi nuovi tagli, pari nei prossimi tre anni a 2 milioni e 300 mila euro, sono inaccettabili, incoerenti, ingiustificati e immorali per i sindacati che chiedono di reperire risorse altrove. Umberto Coccia, segretario CISL. Chiaro che tutto ciò è inaccettabile in una fase drammatica, critica, che va avanti ormai da 7 anni e che pone delle grandissime difficoltà sociali a fasce sempre più ampie della popolazione, quindi anziani con la pensione al minimo, anziani non autosufficienti, intere famiglie il cui capofamiglia ha perso il posto di lavoro. E' quindi una situazione veramente incredibile e drammatica. Noi vogliamo opporci a questo riflesso condizionato di recuperare risorse sul sociale. Possiamo recuperare risorse da qualsiasi altro punto del bilancio, tranne che sul sociale, perché è assurdo che in questi anni così drammatici, per una crisi che morde fasce sempre più ampi di popolazione, si vada a toccare per l'ennesima volta il sociale. I sindacati chiedono al Comune di rivedere la politica di bilancio e si dichiarano aperti ad un confronto serio, altrimenti scatterà la mobilitazione. Un sit-in pacifico dei lavoratori del punto vendita Oshan di Pescara a pochi passi dall'aeroporto si è svolto questa mattina nell'ambito della giornata di sciopero promossa dai sindacati a livello nazionale dopo l'annuncio di 1.426 suberi, di cui 37 riguarderanno il centro commerciale del capoluogo adriatico. La trattativa tra l'azienda francese e sindacati prenderà il via martedì e sarà unica a livello nazionale e l'unico dialogo intercorso fino ad oggi tra le parti ha riguardato il primo tentativo del gruppo di eliminare la quattordicesima per due anni, ma la proposta è stata respinta da rappresentanti dei lavoratori e si è arrivati all'annuncio dei posti da tagliare. A Pescara la partecipazione allo sciopero per otto ore è stata di circa il 40%. Si accende il dibattito sul piano industriale della nuova azienda unica di trasporto regionale TUA critici i sindacati, il delegato d'Alessandro invita lavoratori e sindacati a fare sacrifici per i contratti di secondo livello. Si surriscaldano i motori di TUA, l'azienda unica regionale dei trasporti realizzata per fusione con incorporazione in ARPA di Sangritana e GTM. Il piano industriale non convince i sindacati, critici su molti aspetti del neonato organismo dall'abbattimento dei costi della politica, ovvero dei CDA, alla nuova bigliettazione al ferro. Terenzo Chiavaroli, segretario regionale Ultrasporti. Intanto siamo entrati nel merito della discussione e ci siamo resi conto che ci sono delle carenze enormi. Intanto manca tutta la parte ferro che non viene minimamente coinvolta nella riorganizzazione dei servizi regionali. Un servizio che dovrebbe prevedere una bigliettazione molto più semplificata per i cittadini e invece rimane così com'è la parte gomma da una parte e la parte ferro da un'altra. I tagli incidono e le minori risorse vengono fatte incidere soprattutto sulla gomma. Il ferro non viene minimamente sfiorato e nella riorganizzazione delle sovrapposizioni vediamo che ci sono delle grandi lacune per i cittadini abruzzesi. Abbiamo chiesto alla regione di discutere questo piano, siamo pronti ad entrare nel merito del piano sapendo anche responsabilmente che le risorse sono sempre inferiori in quanto il governo centrale manda sempre meno risorse. Ma questo non può essere a discapito solo di una parte dei cittadini abruzzesi. Accusa e respinte da Camilo D'Alessandro, delegato ai trasporti, che pone quale punto fermo nessun licenziamento. Ma i lavoratori e i sindacati, dice D'Alessandro, sono chiamati a fare sacrifici nei contratti di secondo livello. Intanto alcune certezze. 1.600 dipendenti delle tre società sono stati salvati letteralmente, sono stati salvati il loro posto di lavoro e la loro prospettiva, nonostante ci siano esuberi, perché ereditiamo gli esuberi del passato, grazie alle economie che riusciamo ad attivare dal fatto che si passa da tre società a una società unica. oltre 11 milioni di euro di economia, da un lato. Dall'altro però abbiamo dei tagli di trasferimento. Abbiamo i tagli sull'attuale bilancio regionale di 10 milioni di euro, si rischiano che dal governo arrivino oltre altri 10 milioni di euro. Questa è la realtà. Poi i sindacati fanno come coloro, non dico tutti i sindacati, ma alcuni in questi giorni che stanno aumentando il loro tono, per non perdere qualche tessera, perché di questo si tratta, stanno aumentando il loro tono facendo finta che tutto ciò non è vero. In pratica sono come i suonatori che continuavano a suonare i musicisti mentre il Titanic affondava. Ma il Titanic affondava? Allora noi ci siamo occupati di non far affondare il Titanic mentre loro suonano. Dopodiché si vogliono confrontare il merito? Noi ci siamo. E qual è il merito? Che noi dobbiamo mettere mano ad un contratto unico di secondo livello. Oggi ci sono tre contratti diversi da aziende a aziende. E questa è anche figlia di una politica che nominava i propri rappresentanti nei consigli di amministrazione, i quali invece di andare a amministrare facevano la politica, per cui concedevano nei contratti di secondo livello qualunque cosa e se i sindacati vogliono cominciamo a raccontarle ciò che ci sta scritto dentro quei contratti di secondo livello e credo che in alcuni casi riempiremo qualche pagina del libro di Gian Antonio Stella. E' stato presentato questa mattina dal sindaco di Montesilvano il progetto di riqualificazione dell'ex colonia Stella Maris sarà la sede distaccata dell'Accademia delle Belle Arti di Roma. Una sede distaccata dell'Accademia delle Belle Arti di Roma all'interno della Stella Maris, l'ex colonia sul lungomare di Montesilvano sulle cui sorti si discute da anni con l'obiettivo di istituire corsi di alta formazione che siano attrattori per un'utenza internazionale e questo è il progetto ideato dal Comune di Montesilvano per far risorgere la struttura in parte fattiscente e spesso utilizzata come rifugio dai disperati. L'iniziativa è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa alla presenza della direttrice dell'Accademia delle Belle Arti di Roma Tiziana D'Achille. Per il sindaco Francesco Maragno questa è la proposta più credibile forte anche di finanziamenti finalmente sbloccati e di altri più importanti che potranno essere reperiti in Europa. Finora si sono sempre spese belle parole, belle idee per la stella Maris ma di fatto queste idee venivano a scontrarsi con quella che era la realtà di fatto sia la mancanza di finanziamenti. Oggi con l'Accademia delle Belle Arti abbiamo creato le condizioni perché quelle belle idee possano essere messe in pratica e finalmente far decollare la stella Maris che possa essere volano per lo sviluppo di tutto il territorio. Il Comune è pronto a fare la propria parte ma già quest'intesa di massima che noi abbiamo con l'Accademia ci potrà portare comunque a richiedere delle forme di finanziamento direttamente al Ministero. La struttura, ha detto la direttrice D'Achille, è particolarmente adatta per le attività di laboratorio. L'obiettivo è fornire al territorio corsi accademici di primo e di secondo livello in costume per lo spettacolo, pittura e scultura. L'idea è quella di fornire al territorio un servizio importante e anche trasformare questo luogo che è un luogo molto bello dal punto di vista architettonico in un polo di eccellenza internazionale. È un luogo che si presta per summer school, per corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello legati anche al territorio, alla specificità del territorio. e quindi perché no, perché non provarci? Abbiamo messo in moto tutta una procedura per la richiesta di fondi che a fronte di un progetto articolato e importante e soprattutto anche così pulito da un punto di vista etico sono certa che non mancheranno. Rista tra condomini con tre ferite a Pescara in uno stabile della centralissima via Piave i carabinieri hanno accertato che padre e figlio avrebbero avuto una discussione con un vicino dalle parole grosse si sarebbe passati poi ai fatti il figlio 45 anni ristretto e domiciliare ha riportato 20 giorni di prognosi per lesioni multiple il padre, 78 anni, ha avuto un malore ed è stato ricoverato all'ospedale mentre è andata meglio ad un 60 anni che ha riportato lesioni più lievi i tre rischiano una denuncia per rissa l'episodio di ieri sera ha detto il capitano Scarponi testimonia come purtroppo nonostante i tragici fatti accaduti in settimana a Pescara le discussioni tra vicini benché nascano frequentemente per futili motivi continuino ad avere serie, quando non drammatiche, conseguenze sono stati ricordati oggi al parco adriatico di Montesilvano i tre poliziotti dell'undicesimo reparto volo di Pescara scomparsi in un incidente in mare a Fossacesia sono passati dieci anni da quel terribile incidente dell'11 maggio 2005 a Fossacesia nel mare adriatico in cui i tre poliziotti dell'undicesimo reparto volo della polizia di Pescara persero la vita Maurizio Formisano, Fabrizio Di Giambattista e Valerio Valentini sono stati ricordati oggi da amici e colleghi nel corso di una commemorazione promossa dal sindacato COISP nel parco adriatico a Montesilvano Giovanni Catetti sono dieci anni, passati dieci anni in cui noi ogni anno li ricordiamo intensamente come se fosse anche il primo non li dimenticheremo mai è un qualcosa che va fatto perché ce lo sentiamo nei nostri cuori e perché loro stanno sempre in mezzo a noi sapranno darci conforto dall'alto dieci anni sono tanti ha detto il vicequestore aggiunto Conti ma la loro assenza si sente tutti i giorni dieci anni insomma come è stato anche detto sono tanti però effettivamente il nostro ricordo continua ad essere sempre vivo perché l'assenza dei nostri colleghi la continuiamo a sentire sempre in tutti i giorni della nostra attività e loro come hanno detto anche gli altri sono con noi Messaggi, telefonate, appostamenti fuori dal luogo di lavoro e sotto casa di una ballerina romena di cui si era invaghito sono costati ad un quarantenne marchigiano l'arresto per stalking da parte dei carabinieri di Giulianova l'uomo ha sostenuto di aver avuto con la donna un legame sentimentale del quale non aveva mai accettato alla fine lei ha negato e quando per l'ennesima volta lo ha trovato sotto casa ad aspettarla ha chiamato le forze dell'ordine lui ha seguito in caserma i carabinieri per gli accertamenti ma una volta uscito si è presentato di nuovo sotto la casa della donna minacciandola e chiedendole la restituzione di 4.000 euro la donna ha chiamato di nuovo i carabinieri che hanno arrestato l'uomo con le accuse di stalking voltiamo pagina seconda edizione del concorso di scrittura creativa penne al dente l'iniziativa per avvicinare i giovani alla scrittura creativa è stata inserita nella settimana della cultura frentana penne al dente nell'ambito del mese della cultura frentana per valorizzare i giovani scrittori e promuovere la passione per la lettura e appunto la scrittura l'iniziativa promossa dall'associazione La Luna di Seb per il secondo anno di fila è patrocinata dal comune di Lanciano hai coinvolto gli studenti dell'istituto Da Vinci De Giorgio con un concorso di scrittura creativa i racconti sono stati valutati dalla giuria presieduta da Katia Napoleone conduttrice televisiva della trasmissione leggiamo insieme e composta da Stefano Carnicelli autore del romanzo Il Bosco senza tempo vincitore del premio Maiella e Maria Elena Maie Carulli artist performer il dirigente scolastico Gianni Orecchioni Facciamo una manifestazione della scuola con molta gioia perché mettiamo insieme i ragazzi gli insegnanti che si sono cimentati in una prova di scrittura creativa con un pubblico fatto da giornalisti e scrittori che si confrontano con i nostri ragazzi per dare vita insomma a una esperienza nuova perché noi abbiamo enfatizzato negli anni nella nostra scuola soprattutto la lettura abbiamo la prima biblioteca scolastica online d'Italia e abbiamo anche un pochino giocato con la cultura con Mark Twain con Arcimboldo con Feuerbach nel senso di dire che l'uomo è ciò che legge Questi i risultati del concorso al primo posto preziosa fantasia di Jessica Del Vecchio secondo posto per Io e Sara i segreti di un sorriso di Sara Scarpari terza una protesta nel mare di Lorenzo Primavera menzione di merito per Martina Pirozzi Hendrid Sinani Ilaria Micolucci Katia Napoleone ho scoperto anche un tipo di scrittura matura forse non mi sarei aspettata così tante emozioni esplose tutte insieme all'interno di appunto penne al dente perché sono ragazzi molto giovani che però devo dire hanno saputo uso un termine molto brutto ma che rende l'idea vomitare emozioni su un foglio di carta che è poi il senso reale della scrittura e restiamo a Lanciano anche con il prossimo servizio dedicato ad una rassegna fotografica allestita al Polo Museale workshop e shooting fotografici mostre e anche un po' di musica tutto questo immagina una strada verso tutte le arti in programma dall'11 al 17 maggio al Polo Museale Santo Spirito di Lanciano l'evento organizzato dall'associazione Social Photography Street di Roberto Colacioppo è stato presentato alla stampa come un appuntamento rivolto a tutti gli appassionati non solo di fotografia ma dell'arte in generale tra i nomi di rilievo la mostra di Giorgio Lotti e il workshop con il fotografo sociale Ignacio Maria Coccia madrileno che aprirà la rassegna lunedì l'evento è inserito nel cartellone Cultura Anxa il mese della cultura frentana grande appuntamento con il fotografo internazionale Maz Marshao indiano esperto di ritratti mercoledì 13 maggio vivere questo workshop per poter capire come si realizza un ritratto e quindi sfruttando l'esperienza la professionalità di questo fotografo che è Maz Marshao e portare la sua esperienza la riporta a noi facendoci capire che cosa significa fare un ritratto come ci si rapporta come bisogna fare per poter fotografare una persona e trarne l'anima di quella persona è importante partecipare a questo evento a questo workshop per capire che cosa significa fare fotografia poi che il supporto sia uno smartphone che poi sia una macchina fotografica una macchina professionale non ha importanza quello che fa la differenza è l'approccio e allora questo fotografo ci darà la capacità di capire come si approccia qual è il fattore più importante che è il fattore umano per poter fotografare più che il mezzo quindi va bene anche lo smartphone se si sa usare e si sa capire l'attimo giusto un annullo filatelico per celebrare la festa della mamma in Abruzzo è l'idea che ha visto protagonisti i ragazzi dell'istituto comprensivo Pollidori con le classi di prima e seconda media di Fossacesia e Mozagronia e poste italiane il disegno è stato realizzato da Giulia bimba polacca da sette anni in Italia con la sua famiglia e da luna di seconda media il bozzetto raffigura in forma stilizzata una mamma che bacia la propria figlia sulla fronte all'interno di un cuore terza tappa domani del cammino dell'apostolo Tommaso nell'ambito del progetto culto e cultura in Abruzzo i pellegrini partiranno dal santuario del volto santo di Manopello per dirigersi a Bucchianico al santuario di San Camilo dell'Ellis e poi a Vacri la tappa di 27 km avrà inizio alle 7 del mattino e si concluderà alle 18.30 ed ora voltiamo pagina parliamo di calcio con la 40esima giornata del campionato di serie B per risultati classifica e highlights cedo subito la linea al collega Enrico Giancristofaro di serie B